Oland, il primo massimo era tutti gli piccoli secondi, non va a tirare, un paio dei minuti, 4-5-8, vediamo se qualcuno riesce a fare, vediamo, tiro Casale, Casale, tutto, questo fuori, 82 centesimi, potrebbe esserci un, dai e tira, anzi se tutto. Che ci facciano andare a casa una buona volta, tanto se ora non è realizzato il 89 a crescindere, ne ha invece realizzato il 94.